Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 29 novembre noi ricordiamo e festeggiamo tutti i Santi Francescani. Ascoltiamo. La scelta di celebrare il 29 novembre la festa di tutti i Santi dell'Ordine Serafico cade in occasione della conferma di Papa Onorio III della Regola di San Francesco. Si tratta di una moltitudine immensa, recante il segno del Dio vivo, adunata intorno al poverello. San Francesco disse un giorno ai suoi frati, pieno di gioia, Carissimi, confortate e rallegratevi nel Signore. Non vi rattristi il fatto di essere pochi. Non vi spaventi la mia e la vostra semplicità, perché, come mi ha rivelato il Signore, Egli ci renderà una innumerevole moltitudine e ci propagerà sino ai confini del mondo. Sono uomini e donne di ogni ceto sociale, stato di vita ed età, sacerdoti e religiosi del primo ordine, clarisse del secondo e laici dell'ordine francescano secolare. Tra loro figure eminenti che si sono distinte per la scienza e la dottrina, altre per il candore della semplicità, illuminando con il fuoco dell'amore il grigiore della quotidianità. Altre ancora hanno testimoniato l'amore di Dio con il martirio. E sono anche a sé di più di quelli segnati nell'albo canonico dei Santi, una schiera infinita di persone umili che hanno vissuto con semplicità il messaggio francescano di pace e bene e che hanno vissuto, ispirati da Francesco, nell'amore di Dio, ritrovando Gesù Cristo in tutte le creature, specialmente nei poveri e negli emarginati, soggetti di carità e non semplicemente oggetto di qualche elemosina o di un'operapia. San Francesco è stato l'alter Christus. Chi si professa a suo seguace ha il compito di testimoniare al mondo la gioia del Vangelo e la bellezza di una vita semplice, autenticamente umana, ritrovando Dio nei fratelli e in tutte le cose, in ogni rapporto umano. La festa di tutti i Santi dell'Ordine Serafico diventa una grande sfida. Annunciare al mondo con la vita, con la carità concreta, che il cielo non è vuoto e che ad attenderci c'è qualcuno, il nostro Signore Gesù Cristo. La santità è amore concreto per Dio nel prossimo e amare Cristo nei poveri, in ogni persona che ci passa accanto. Allora festeggiare tutti i Santi Francescani non è nient'altro che festeggiare San Francesco e semplicemente stupirsi vedendo quanta energia, quanta conversione abbia portato la santità di quest'uomo. Il piccolo Francesco d'Assisi è grande perché è grande maestro ed è grande genitore, papà di tante e tante vocazioni. Allora ringraziamo il Signore per il dono di Francesco e di Chiara. Questa coppia magica oserei dire che ha saputo compiere tante e tante rinunce perché provavano un amore immenso. Allora chiediamo al Signore che anche noi possiamo infiammarci come hanno fatto loro e nel nostro piccolo gustare, nel nostro cuore, un po' della dolcezza che loro sperimentavano quando pensavano a Cristo e al suo sacrificio. Tutti i Santi Francescani pregate per noi.